la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon lunedì a tutti, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale il titolo di apertura si dedica ad ulteriori minacce, ancora casi di minacce ai PM in Campania e vediamo infatti il titolo, minacce a un altro PM, Sirignano nel mirino dei boss dei Casalesi presso le scorte in procura, mercoledì a Napoli assemblea di 100 magistrati con Colangelo sulla sicurezza dopo la notizia del rinvenimento del tritolo a Gioia del Colle, esplosivo probabilmente destinato al capo dei PM di Napoli Colangelo pronto il rafforzamento delle scorte per i magistrati titolari delle inchieste più delicate sui clan e ancora continuiamo gli articoli correlati, andiamo a Giuliano, donna ferita, spari e terrore nel bar alla serata con Nina Moric Nelle interviste del mattino, migliore via a nuovi concorsi per i magistrati il sottosegretario la pensione non c'entra con le minacce al procuratore capo Andiamo di fondo, si parla ora di economia, si parla già della nuova manovra, anche della nuova legge di stabilità per quanto riguarda l'anno 2017, si attendono notizie da Bruxelles per capire cosa ci aspetta nel 2017 per quanto riguarda le tasse Vediamo il titolo, pronta la manovrina contro l'aumento dell'IVA L'Unione Europea va verso il SIA, la flessibilità statali, aumenti per i redditi bassi l'analisi, il rischio di stare nel gaudo senza né rigore né sviluppo Andiamo di taglio alto, parliamo di sport dopo l'ultima giornata di Serie A che ha visto la vittoria per 4-0 del Napoli contro il Frosinone assicurata quindi la Champions dove il Napoli accede senza passare per i preliminari si pensa quindi ora al mercato e vediamo il titolo, Napoli tre colpi per la Champions notti d'Europa nel Mirino, Clasin, Versalico e Visino Cena di De Laurentiis con la squadra, 3 milioni per il secondo posto ultima missione, ora blindare il Pipita che nella notte di sabato ha superato Nordal per il record di gol nel campionato di Serie A un record che permaneva da 66 anni e vediamo ancora gli articoli correlati il punto se scoppia la voglia di giocare in azzurro poi la sfida, il Super Iguain alla riconquista dell'Argentina parte anche il campionato, la Coppa America Centenario Iguain convocato e poi il commento, la città squadra e la lezione del sacrificio questi tutti i temi trattati nelle pagine sportive dal quotidiano e il mattino ora andiamo di taglio basso, vediamo le rubriche passione e solitudine, il diritto dei bimbi al papà e alla mamma e poi fumo e arrosto se il bene è un lusso che non tutti meritano questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo ora sulle pagine di primo piano e parliamo proprio della flessibilità come abbiamo visto, nei giorni scorsi si è parlato tanto del probabile aumento dell'IVA che dovrebbe arrivare al 24% arrivano ora notizie dal governo su un blocco di questo aumento un blocco che può arrivare solo se l'Unione Europea dà l'ok alla flessibilità sono ottimisti dal governo e poi oggi dovrebbero arrivare anche notizie in merito al tipo di manovra su cui si dovrà lavorare per il documento di economia e finanze per l'anno 2017 quindi per la legge di stabilità e vediamo il titolo flessibilità ok mini manovra per scongiurare il rincaro IVA mancano 7 miliardi stretta sugli sconti di imposta e sulle spese Bruxelles attesa per oggi la lettera che darà il via libera all'Italia ma richiamo sul debito, il debito pubblico infatti sembra secondo da Roma dicono che sia sceso dal 132,7% al 132,4% ma per Bruxelles resta ancora alto perché supera la soglia del 130,2% e poi vediamo il commento dell'ex sindaco di Londra Juncker Johnson, scusate l'Unione Europea persegue lo stesso obiettivo di Hitler unificare l'Europa sotto un'unica autorità queste le dichiarazioni dell'ex sindaco conservatore di Londra Juncker Johnson che scatenano le polemiche dei labur al momento alle prese con il rischio Brexit di taglio basso acquisti centralizzati l'obiettivo è risparmiare 5 miliardi decisivo il ruolo della Consip per razionalizzare le spese si allunga il paniere dei beni lasciamo anche questa pagina del quotidiano il mattino andiamo ora sulle pagine di primo piano si pensa ad allungare le ore per le elezioni amministrative questa mattina ci sarà un vertice tra il premier Renzi e Angelino Alfano per concedere l'apertura delle urne anche per il 6 giugno in occasione proprio delle elezioni amministrative vediamo infatti il titolo urne aperte di lunedì per referendum e amministrative decisione oggi in Consiglio dei Ministri ma il vero obiettivo è il voto sulle riforme vertice a 2 Matteo Renzi e Angelino Alfano prima del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio si incontreranno per valutare l'opportunità di allungare di un giorno le elezioni amministrative di giugno lasciamo anche questa pagina in attesa di ulteriori notizie che dovrebbero arrivare in giornata sul tempo insomma sulla durata delle elezioni amministrative andiamo ora invece sulle pagine del mattino di Salerno e partiamo dal titolo di apertura industriali scontro con il centrodestra quindi si anima la campagna elettorale a Salerno Celano e Amatruda marchettari istituzionali questo l'accusa rivolta agli industriali e Maccauro aggressione camorristica questa è la risposta alta tensione per il convegno con De Luca Junior alla stazione marittima prete ignorano la civiltà andiamo avanti gli articoli correlati 5 Stelle e Di Maio ripartiamo dal sud poi lo scenario Amplob Napoli polemica risibile penso a lavorare vediamo le notizie a centro pagina la cronaca un'altra donna uccisa a San Leonardo il corpo seminudo in un terreno terrore tra i residenti c'è un killer delle prostitute e poi la guerra di droga eboli colpi di pistola contro la spacciatrice il giallo morto in vacanza mistero sulle cause andiamo di fondo scusate la sanità SOS costiera di notte niente rianimatori la tragedia 5 mesi muore in culla a Mariconda la mamma lo ha trovato in culla immobile piccolo 5 mesi appena non respirava la donna residente a Mariconda ha urlato e chiesto aiuto al marito andiamo di taglio basso punti di vista il viaggio e la madre metafore dell'apocalisse questa è la prima pagina del mattino di Salerno continuiamo sempre sul mattino di Salerno e andiamo sulle pagine di cronaca l'abbiamo visto ancora un caso dopo quelli verificatosi nello scorso anno di due donne ritrovate uccise nel rione San Leonardo vediamo il titolo un'altra donna uccisa shock a San Leonardo seminuda sui 25 anni avrebbe subito un rapporto sessuale prima di morire e il terzo cadavere scoperto nella zona il corpo staccato dalla testa rinvenuto in un terreno in stato di decomposizione continuiamo le indagini magistrati e poliziotti sul posto si tenta di dare un nome alla ragazza e ancora paura tra le famiglie del parco c'è un killer delle prostitute gli abitanti invocano le telecamere e qui è davvero terra di nessuno un anziano minacciato col coltello di taglio basso la tragedia cinque mesi trovato senza vita nella culla indagini sul decesso del neonato lo strazio dei genitori bimbo soffocato a mariconda la terribile scoperta della madre inutile la corsa in ospedale federico sarà sepolto a raito sulla sua fine resta il mistero a berlino e seguita l'autopsia sulla salma del giovane di stio cilento ora si attende il rimpatrio lasciamo queste pagine dedicate alla cronaca e andiamo ora invece a parlare di sport parliamo sia del Napoli che della Salernitana il Napoli che ora ha la testa puntata alla Champions per la stagione 2016-2017 e la Salernitana che cerca la salvezza e quindi la permanenza in Serie B partiamo con il Napoli De Laurentiis cena con premio Champions 3 milioni di euro per il raggiungimento del secondo posto e il regalo del presidente che verrà diviso tra gli azzurri serata di festa per il traguardo al taglio della torta parte un giorno all'improvviso la dedica il patrono ringrazia Sarri Testardo Leale Deciso soprattutto bravo e poi ci sono le immagini della cena all'attesa il tecnico aspetta la chiamata del numero 1 del club per il vertice sul contratto di taglio basso ieri a Napoli l'urlo di Adani e l'omaggio di Padre Lello sul web la gioia azzurra la reazione del commentatore di Sky al terzo gol del Pipita non ci credo e il video diventa virale nella chiesa del Vomero l'impresa del Bomber finisce su un maxi schermo durante la messa quindi grande festa a Napoli e invece la Salernitana ancora non può festeggiare per manca il risultato manca la salvezza in serie B vediamo il titolo Salernitana dentro fuori in 90 minuti con l'incognita del Lanciano al momento la Salernitana è a 42 punti giocherà l'ultima sfida alla Rechi contro il Como dove si decide tutto ma intanto c'è il Lanciano che sembra salvo vediamo la giustizia prima degli spareggi salvezza possibile un nuovo deferimento dei Frentani la speranza e gli avversari sfideranno squadre ancora in lotta per obiettivi per obiettivi importanti lasciamo le pagine del quotidiano il mattino con queste notizie della Salernitana in attesa del risultato finale nella speranza della sua permanenza in serie B ora andiamo a sfogliare invece Metropolis il titolo di apertura la cronaca il caso di San Leonardo vediamo a Salerno assassinata dal serial killer l'omicidio potrebbe essere legato al racket delle prostitute a capodanno delitto con le stesse modalità rinvenuto il cadavere di una giovane donna nei pressi dello stadio a Rechi ancora a Salerno amore in celle il cappellano è d'accordo e poi i soldi spariti in curia in parrocchia prete a processo per il calcio violento scontri allo stadio inferno a cava sul campo i metalliani vincono e sono in finale playoff di serie D la violenza sul campo l'accavese ha vinto 2 a 1 guadagnato la finale playoff ma la domenica a Lamberti è stata infernale per gli scontri tra le due tifoserie registratesi prima del fischio d'inizio ancora sport serie B granata al rapporto dai tifosi supporto e rifiutano le scuse bisogna solo vincere venerdì e poi caso Lanciano l'avvocato gentile e sicuro palesi errori nella sentenza continuiamo con le notizie questa volta di politica Napoli De Luca Junior ventennio d'oro e sempre a Salerno però questa volta per il centro-destra ce l'hanno e a Matruda una cappa di potere ancora l'elezione amministrativa di Norfi con il biberon gli altri si nascondono andiamo avanti sulle pagine del quotidiano Metropolis parliamo ancora una volta del caso di cronaca a San Leonardo quindi a Salerno donna trovata morta nei campi incubo serial killer di Lucciola una giovane senza vita né identità nello stesso terreno a Capodanno fu rivenuta un'altra vittima le modalità l'esame esterno del medico legale Adamo Maiese fa ipotizzare che la donna sia stata strangolata dal killer nello stesso terreno di Via dei Carrari è stata ritrovata senza vita una lucciola nel giorno di Capodanno due le tesi principali al vaglio degli inquirenti la presenza di un serial killer o un omicidio legato al racket del sesso vediamo in retroscena quei numeri di targa annotati tra colleghi il rituale dell'esquillo durante la contrattazione rabbia e residenti qui troppi pericoli fu anche minacciato da un uomo armato e poi ancora la cronaca lina fu strangolata orrore a San Silvestro diversi punti di contatto con la morte della 34enne le forze dell'ordine risalirono all'identità dell'esquillo grazie a una foto sui social e su questo tema ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa andiamo a sfogliare le pagine del quotidiano la città vediamo dalla prima pagina il caso di cronaca a Salerno presso il rione nei dintorni del rione San Leonardo vediamo il titolo nuda e strangolata incubo killer il cadavere trovato a Forni è il secondo caso dall'inizio dell'anno è il secondo caso da dicembre l'altro caso si è verificato a dicembre andiamo avanti la fotonotizia si parla della Salernitana la Salernitana si prepara a giocarsi tutto su più campi venerdì l'ultimo atto con l'ombra del caso Lanciano le altre notizie da Salerno si parla delle prossime elezioni amministrative alla serata per Napoli lo show di De Luca Junior una celebrazione degli ultimi vent'anni e poi tra Amatruda e Macau lo scambio d'accusi al veleno da Marchettari ad aggressione camorristica a Cava dei Tireni teppisti allo stadio alta tensione prima della sfida con Reggio Calabria le notizie provenienti sempre di cronaca provenienti da altri sempre dalla regione Campania sempre dalla provincia di Salerno a Nocera inferiore grave un pensionato dopo la caduta da una scala ricoverato in rianimazione un 69enne macellaio di Nocera Marco Pepe che è caduto da una scala mentre sistemava una tenda sul balcone di casa continuiamo possibile lo stop Fonderie Pisano in arrivo il verdetto della regione e andiamo di taglio alto 5 mesi muore nella culla a Salerno inutile il disperato tentativo di soccorso dei genitori oggi l'autopsia un bambino di appena 5 mesi è stato trovato morto nella culla dal padre la tragedia è avvenuta nel quartiere Mariconde i genitori hanno tentato disperatamente di farlo rianimare dai medici dell'ospedale ma ormai era troppo tardi e poi il caso guerra della droga pistolettata a eboli contro una casa e un'auto questa è la prima pagina del quotidiano la città andiamo avanti torniamo sul caso della donna trovata morta strangolata e vediamo che il quotidiano la città nelle pagine di primo piano ritorna anche ai casi precedenti verificatisi sempre su quella zona a Salerno due casi lo scorso anno uno a maggio un altro a dicembre vediamo Mariana come Alina ora è incubo serial killer il 31 dicembre il cadavere di un'altra donna è stato rinvenuto nello stesso posto entrambe erano seminude e sono state soffocate con le mani alla gola la vittima vittima riconosciuta da un anello a forma di fiore andiamo avanti di taglio basso il racconto i residenti siamo in balia di chiunque la zona è in meta del sesso a pagamento e chi ha protestato si è trovato un coltello puntato addosso andiamo avanti vediamo le notizie che interessano la parte sud della provincia di Salerno andiamo ad Eboli in apertura guerra della droga Eboli pistolettate a Rione Borgo i colpi sparati verso l'abitazione di una pregiudicata i fori nascosti con lo scotch proiettili anche contro l'auto di due stranieri le perquisizioni dei carabinieri continuiamo sempre su questa pagina del quotidiano la città scontro tra auto resta grave l'operaio critiche le condizioni di un quarantenne di celle di bulgheria liberata la salma invece della pensionata di taglio basso a Sapri utilizzo area di Santa Croce ultimato il tavolo tecnico a Montesano comprano un escavatore con assegni falsi denunciati si presentavano alle vittime del raggiro come imprenditori nel settore agricolo pagando i beni strumentali con assegni falsi denunciati due uomini del Foggiano e carabinieri della stazione di Montesano sulla Marcellana coordinati dai militari della compagnia di sala Consilina al comando del capitano Emanuele Corda al termine di un'attività di indagine hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro due persone già note alle forze dell'ordine provenienti dalla provincia di Foggia per il reato di truffa in concorso e ancora a Serre sviluppo viabilità e fondi nasce un centro di ascolto queste alcune delle notizie che troverete sul quotidiano la città ora andiamo sulle cronache che apre con il caso del bambino di 5 mesi trovato morto nella culla dai genitori vediamo infatti il titolo morto in culla 5 mesi tragedia a Mariconda ieri mattina Luana e Marco non riuscivano a svegliare il piccolo inutile la corsa in ospedale un rigurgito è l'ipotesi più probabile oggi l'autopsia la coppia ha altri tre figli la mamma è candidata al consiglio comunale una brava famiglia sconvolta dal dolore andiamo avanti stazione marittima a Maccauro a Matruda attacca voleva soldi per la campagna elettorale il sindaco siamo costernati Piero De Luca Alvetriolo forse tale rappresentata da chi è scappata a Napoli successo dell'iniziativa e poi altri guai per Minichini Donnarumma in discoteca prima della gara i tifosi lo accusano l'attaccante si difende sui social network vogliono solo screditarmi questo dopo la gara l'ultima gara che è stata che ha decretato la sconfitta della Salernitana quindi è ancora più difficile la salvezza la permanenza in serie B andiamo avanti via dei Carrari trovata donna strangolata dove fu rivenuto il corpo di una prostituta il cadavere avanzato stato di decomposizione non permette il riconoscimento vediamo le notizie in breve tentativo di aggressione al Reggini che avese in finale ma si scatena la follia oltrà a Nocera abusi sulla figlia di otto anni nei guai un ex bancario ad Angri tassa sui rifiuti troppo alta la denuncia di altra Angri e infine a Castellammare Cimmino attacca Pannullo prende ordini da Bosco Reale andiamo avanti sulle notizie di Le Crona che è il caso della donna trovata morta al Rione San Leonardo via dei Carrari trovata una donna strangolata il cadavere in avanzato stato di decomposizione il 31 dicembre scorso nello stesso punto fu rinvenuto il corpo di una prostituta le indagini per l'identificazione era lì da circa un mese Salerno vive una denatalità sempre più forte i dati sono allarmanti e poi mercoledì i vigili del fuoco si tina alla prefettura con APO parità di trattamento lasciamo questa pagina andiamo sulle pagine dedicate alle notizie della parte sud della provincia di Salerno ci fermiamo in particolare ci soffermiamo in particolare sulle notizie che interessano il nostro territorio quindi di spalla troviamo una notizia a Sapri raffica di incidenti sulla Cilentana morta una novantenne sabato nero a Sapri e poi ieri sera la presentazione della lista a Padula per imparato sindaco Paolo Imparato cerca la riconferma a primo cittadino vogliamo completare il lavoro fin qui svolto la squadra del candidato a sindaco si oppone a Caterina di Bianco l'altra candidata sindaco a Padula andiamo avanti ancora a Casalbuono sabato scorso Massimo Troisi al via la prima edizione dell'atteso Memorial una rassegna teatrale dedicata proprio all'indimenticato attore partenopeo e lasciamo le pagine del quotidiano le crona che ora andiamo sulla nuova del sud vediamo quali sono i principali argomenti le mani della politica sull'APT spoil system mentre Verri promuove la Puglia con Checco Zalone e stallo sul DG della nostra agenzia i nomi di quanti si sono candidati 30-40 tenuti nascosti ma trapelano senza conferme Minardi Bruno e l'attore fortunato andiamo avanti a questa materia signorile Scicchi il professor Caserta punta il dito contro la trasformazione che vive la città e contro i benestanti ancora il caso Moro e quella soffiata partita dal carcere di Matera mentre per il centro Oli Valdagri e Deni stamane presidio dei sindacati per difendere i posti di lavoro di cova e indotto centropagina Pittella messaggio a Movimento 5 Stelle e minoranza Dem dialoghiamo su proposte concrete poi Migranti apre il centro di accoglienza di Venosa via i caporali dalle comunità ampio spazio dedicato allo sport di taglio basso l'atletica Caruso bronzo e azzurro clamoroso terzo posto nei 10.000 e c'è il pass per la Coppa europea il calcio in eccellenza colpo metà pontino vittoria ad Altamura nelle fasi nazionali e poi l'eccellenza ancora il pomarico raggiunge la salvezza battendo 1 a 0 il pignola nel finale di play out i rosso-blu condannati alla retrocessione andiamo avanti per la promozione fanno festa il Real Senise e l'FST Rio Nero mentre per gli altri sport automobilismo Postiglione vince la gara 2 a Silverstone e vola in testa al campionato monomarca allo Lamborghini e la 99esima vittoria in carriera per il Potentino per quanto riguarda invece il ciclismo Giro d'Italia Pozzo Vivo Prudente sotto la pioggia la Crono lo penalizza e va fuori dalla top 10 oggi riposo poi inizia si inizia a salire e sulle palgie di La Nuova del Sud termina la nostra segna stampa vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.